Per venire il deputato Maurizio Lupi, prego, ne ha facoltà. Grazie, signora Presidente. Onorevoli colleghi, non siamo qui a discutere dei rapporti di forza all'interno del Partito Democratico, né delle convulsioni che agitano chi non riesce più a coagulare intorno a sé il voto del centrodestra e dei moderati italiani. Siamo qui per approvare o bocciare una legge elettorale che sottragga il nostro Paese da un limbo istituzionale, che non fa che aumentare le incertezze e la disaffezione dei cittadini per la politica. E di legge elettorale dobbiamo discutere, di legge elettorale ci siamo confrontati, della legge elettorale dobbiamo decidere se votare a favore o votare contro. Questa legge elettorale ha almeno tre grandi pregi. Il primo è che la sera delle elezioni, dopo il primo turno e dopo il ballottaggio, si sa chi ha vinto e chi avrà il compito dell'opposizione. Il secondo è la rappresentatività del sistema, perché chi vince ha una maggioranza significativa di seggi per governare, ma anche chi non ha vinto è rappresentato adeguatamente nella Camera Politica. Il terzo è il potere di scelta attribuito ai cittadini, potere di scegliere chi deve governare, potere di scegliere la lista preferita non solo conoscendo il nome del capolista stampato sulla scheda, ma anche esprimendo fino a due preferenze per candidati di sesso diverso. Almeno il 50% degli eletti verrà scelto con la preferenza. L'attuale sistema, così come il primo testo uscito da quest'Aula, non ne prevedeva nessuno. Area popolare si è sempre battuta, sin dall'inizio, a favore delle preferenze. Fu un patto tra Partito Democratico e Forza Italia che decise nel passaggio dalla Camera al Senato che le preferenze non potevano avere diritto e che i cittadini non avevano possibilità di scelta. Il testo del Senato è una mediazione che riconosce questa possibilità di scelta. Porre la questione di fiducia è stata certamente una decisione politica grave, ma pienamente legittima, di fronte al tentativo di utilizzare il voto segreto per mettere insieme su qualche emendamento una maggioranza impropria al fine di snaturale l'impianto della riforma, rimandarla al Senato e farla così arenare. È evidente che in questo modo non si voleva migliorare una legge. Sono migliorabili tutte le leggi. Ma c'era, da una parte, l'interesse a indebolire una leadership, a fare e celebrare un congresso interno di un partito e, dall'altra, a indebolire un equilibrio politico di governo. Area popolare ha invano rivolto un appello a non chiedere lo scrutinio segreto, come avvenne nel 1993 quando fu votato il Mattarellum, perché i deputati non votassero da incappucciati, ma assumendosi le proprie responsabilità in modo trasparente, perché i cittadini hanno il diritto di conoscere come votano i propri rappresentanti su una materia politicamente così importante. Purtroppo questo non è avvenuto e, di conseguenza, non è stato possibile evitare la richiesta del voto di fiducia. Ho sentito in quest'Aula fare paragoni assurdi in base a precedenti che nulla centrano con quello che dobbiamo decidere oggi. Decisione per la quale ci aiuta invece il precedente del 1953, quando il Presidente del Consiglio e leader della democrazia cristiana, Alcide De Gasperi, chiese il voto di fiducia sulla riforma elettorale maggioritaria. La motivazione venne fornita da Aldo Moro, non credo tacciabile di simpatie per l'autoritarismo. Moro, riallacciandosi all'interpretazione all'inglese della democrazia parlamentare che fu data nella prima legislatura repubblicana, spiegò che il Governo è il comitato direttivo della maggioranza e che ha il diritto dovere di mettere in gioco la propria esistenza quando vede il rischio politico di snaturamento di un proprio testo. Per gli oppositori di allora e gli oppositori di oggi valgono invece gli argomenti usati dall'elio basso e da altri esponenti della minoranza di destra e di sinistra. Contro Moro, non ci può essere una chiara demarcazione maggioranza-minoranza del Governo. E il Governo è solo il comitato esecutivo del Parlamento, anche se si delinea una maggioranza, ciascuna delle componenti parlamentari ha sempre un diritto di veto, per cui l'esecutivo può solo recepire passivamente lo snaturamento di una legge. Il suo programma si riduce a un minimo comune denominatore, una concezione assemblearista della democrazia parlamentare in netto contrasto con quella delle maggiori democrazie europee, che sono democrazie governanti alle quali abbiamo assoluto bisogno di avvicinarsi. La riforma elettorale e quella del bicameralismo e del titolo quinto sono obiettivi imprescindibili dopo tentativi falliti negli ultimi trent'anni e soprattutto di fronte alla crisi di sistema che si è manifestata con l'esito delle elezioni del 2013, quando la legislatura non riusciva ad avviarsi se non si riusciva a formare un Governo né a eleggere il Presidente della Repubblica. Qualcuno vuole tornare a quell'immobilismo, paralizzante, accusando di decisionismo la semplice e necessaria volontà di mettere i cittadini e le istituzioni del nostro Paese nella condizione di poter finalmente decidere. Forse questo qualcuno si è dimenticato degli applausi che in questa Aula tutti noi facemmo al discorso dell'insediamento del Presidente Napolitano, quando ci ricordava la responsabilità di approvare con urgenza le riforme. Quelle parole e quegli applausi non se li sono certamente dimenticati i cittadini, che chiedono una sola cosa. Smettetela con i rinvii. Abbiamo oggi allora la possibilità di approvare una riforma elettorale equilibrata rispetto al primo testo, dopo le modifiche apportate dal Senato, frutto di un lungo e approfondito confronto parlamentare e di una mediazione che ha colto pienamente le proposte di modifica avvenzata dalla minoranza del Podì e dalle altre componenti della maggioranza. con un accordo raggiunto anche con Forza Italia, e qui lo dico ai colleghi di Forza Italia. Forza Italia che continua ad arrampicarsi sugli specchi spiegando che questa legge è una svolta epocale se il nome del Presidente della Repubblica fosse stato Giuliano Amato, un rigurgito fascista se il nome del Presidente della Repubblica com'è e quello di Sergio Mattarella. Il modello di democrazia che proponiamo è chiaro, ha detto il capogruppo di Forza Italia al Senato, ed è l'obiettivo che aveva in mente Silvio Berlusconi quando ha fondato Forza Italia nel 1994. Noi qui e oggi quell'obiettivo lo rivendichiamo con forza. Non sono le parole di aria popolare, sono le parole del capogruppo al Senato di Forza Italia. Molti di noi vengono da quella storia. Allora, non credo che Forza Italia possa pensare oggi che erano incostituzionali e anticamera del fascismo anche gli obiettivi che aveva in mente Berlusconi nel 1994 e che hanno visto per vent'anni molti di noi combattere in Parlamento e fuori dal Parlamento per avere finalmente una democrazia che decidesse, un esecutivo che decidesse, dei cittadini che si sentissero rappresentati, delle coalizioni che veramente potessero andare a rispondere concretamente ai problemi dei cittadini. Quanto alla minoranza del Partito Democratico, ricordo che non è il Parlamento il luogo del suo continuo e interminabile congresso. Al PD tutto ricordo che questo è un governo di coalizione nato in una situazione eccezionale e ingovernabile, per cui il cambiamento si fa insieme. Senza aria popolare non si sarebbero raggiunti i risultati che giustamente vengono rivendicati oggi dal Presidente del Consiglio. Jobs Act, responsabilità civile dei magistrati, aiuti alla maternità, IRAP sul lavoro. Non c'è un solo partito al Governo. Il cambiamento in un momento come questo non si fa con un solo partito al Governo. Non c'è un uomo solo al comando. Anche questa legge elettorale è il frutto di una mediazione, è il frutto di un confronto. Nel merito, ricordo alla minoranza del Partito Democratico, anche che sono state accolte le sue più importanti richieste di modifica, che l'impianto delle riforme corrisponde alle conclusioni maggiormente condivise dalla Commissione di esperti nominata dal Governo Letta, che il premio di lista, anziché alla coalizione, l'unica significativa differenza di quel risultato, era una richiesta qualificante del referendum Guzzetta sottoscritto dalla collega Rosi Bindi, da Gianni Cuperlo, da Enrico Letta, come pure da Brunetta, Presti Giacomo, Martino, Alfano e molti di noi firmammo quel referendum proprio per avere quel premio di lista. E oggi questa legge ha questo premio di lista. Che cosa è accaduto? Che cosa è successo per cui a molti dicono che è antifascismo, che questa è una deriva autoritarista? Smettiamola con le finzioni. La politica, ma innanzitutto i cittadini, la politica con la P maiuscola, hanno bisogno non di finzioni, ma di coraggio, di assunzione di responsabilità, di certezza, di chiarezza. Condividiamo o non condividiamo questa legge? Il resto del confronto politico lo si fatta in aula o nei confronti degli elettori o tra i cittadini. Cerco di capire però le preoccupazioni di chi dietro ogni decisione vede un rischio di eccesso di potere, ma invito a riflettere anche sul fatto che è proprio l'incapacità di decidere che fa poi applaudire al primo decisionista che passa. Concordo con il fatto che ogni potere deve avere dei contrappesi. Per questo la riforma che spero approveremo oggi non è separabile da quella costituzionale in discussione al Senato. Lì vanno inseriti ulteriori contrappesi. Le proposte di aria popolare sono tre. La disciplina delle autorità indipendenti da sottrarre all'indirizzo politico dell'esecutivo. L'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione sui partiti con primarie per le cariche monocratiche esecutive. Ho concluso. Le possibilità per i cittadini di indicare nelle elezioni dei consigli regionali i candidati che ritengono più idonei come senatori. Quella che abbiamo di fronte oggi, signor Presidente, è la scelta tra la conservazione e il cambiamento, tra l'immobilismo e il riformismo, tra la palude dei politicismi e una politica che torni protagonista della vita del Paese. Ed è una scelta che divide trasversalmente tutti gli schieramenti, come si è già visto nel dibattito sulla riforma del lavoro e sul futuro dibattito della riforma della scuola. Rinviare vuol dire non tener conto del fattore forse più decisivo in questa congiuntura di crisi economica, politica ed ideali, il fattore tempo. Non abbiamo più tempo. Per dirla, parafrasando, l'Agnis non sarà la migliore delle riforme possibili, ma è la riforma possibile adesso ed è per questo anche quella necessaria. Non nascondiamoci, ho concluso, dietro un dito. Non creiamoci ulteriori alibi. Non pensiamo che si possa fidare ad una legge o alla sua bocciatura la risoluzione dei nostri problemi di rappresentanza e di presenza nel tessuto vivo di questo Paese. Non c'è legge, signora Presidente, che possa sostituire la politica, le idee, i progetti, la vicinanza con la gente, la sintonia con i loro problemi, la capacità di mettersi insieme. Non c'è legge elettorale che ti assicuri il voto di un cittadino. Approviamola e chi ha la tele da tessere, tessa. Grazie. La ringrazio.